Buonasera a tutti, siamo all'All Fashion, stasera un mix di eventi importanti, ecco però adesso ci concentriamo su una nostra artista, lei è Jessica Spoletti di New Promotion, come ben sapete stasera siamo sempre Radio Roller, Nightline Interview, ecco Jessica parlaci, un penso che tu sei una cantante polietrica, hai fatto diversi concorsi, ti conosco poco attraverso i social, quindi spieghiamo ai nostri amici qual è il tuo percorso artistico e cosa stai facendo. Io sono una cantautrice e quindi scrivo, compongo i miei pezzi, molto cantautoriali, però allo stesso tempo mi piace anche buttarmi come interpreta in qualsiasi genere di musica. So che stasera ti esibirai, quale pezzo interpreterai, un pezzo tuo o di un artista internazionale? A dire il vero ne ho due da proporre, però quello che mi piacerebbe proporre è You and I di Lady Gaga, perché è molto carico insomma. Ok, quindi niente meno che Lady Gaga, ma ti riconosci lei anche artisticamente, caratterialmente o è solo un'interpretazione per poi variare e passare ad altro? Beh, a me di Lady Gaga piace molto lo spettacolo che fa, comunque è un artista a 360 gradi e mi piace perché proprio se le inventa tutte. Ok, quindi perfetto, Jessica Spoletti, New Promotion, come etichetta discografica, giusto? Se non sbaglio? E ancora no. Ok, ci stiamo lavorando, comunque Jessica Spoletti, ecco dove ti possiamo ascoltare? Ma io metto sempre su Facebook i miei video e poi mi piace anche l'arte in strada, quindi molto spesso mi butto anche per le strade di Milano, perché mi piace proprio la libertà di poter fare tutta la musica e i tipi di musica che mi viene in mente. Ok, quindi perfetto, adesso stazera noi amici di Aerial Rollers andremo sicuramente ad ascoltare la nostra Jessica Spoletti nella interview all fashion Milano. Ciao a tutti!